E' ufficiale, slittano le elezioni nei comuni sciolti per mafia. Vittoria e San Biagio Platani, in provincia di Agrigento, voteranno il 14 e 15 marzo, eventuale ballottaggio 28 e 29 marzo. Ma la zona rossa fa polemizzare attraverso un'interrogazione all'ARS presentata dalla deputata Movimento 5 Stelle Stefania Campo, insieme al candidato Piero Gurieri. La zona rossa nella città di Vittoria va regolamentata in maniera più coincidente con le disposizioni nazionali. Non è possibile continuare ad assistere a contraddizioni fra il DPCM nazionale e l'ordinanza regionale di Musumeci. Lo evidenzia la deputata regionale Stefania Campo, che insieme al candidato sindaco di Vittoria Piero Gurieri mette in rilievo come i vittoriesi debbono essere tutelati dal contagio, ma al tempo stesso debbano essere messi nelle condizioni di ricevere informazioni corrette e vadano sostenuti nel poter svolgere senza paura quelle attività legittime e inderogabili. Ad oggi invece, dice la deputata Iblea, regna la confusione fra operatori economici e liberi professionisti, commercianti e artigiani, così come per parrucchieri e barbieri in primis. Il tutto per responsabilità oggettiva di chi ha scritto la prima ordinanza, Musumeci e la sua relativa proroga, che altro non è se non un copincolla di ordinanze precedenti relativa a piccoli e piccolissimi comuni siciliani, con l'aggiunta sostanzialmente del solo riferimento al mercato ortofrutticolo e che in ogni caso mal si adatta a una città di 63.000 abitanti come a Vittoria. Altro aspetto da considerare con maggiore ragionevolezza è quello relativo alla didattica, evidenze Gurieri. Nel DPCM nazionale, infatti, l'apertura delle scuole dell'infanzia, delle scuole elementari e della prima media viene considerata rinunciabile per Musumeci, invece andava chiuso tutto senza considerare le differenti necessità dei bambini e del loro diritto all'apprendimento. Chiediamo, concludono Campo e Gurieri, l'allineamento delle zone rosse siciliane all'ultimo DPCM Conte, con la conseguente liberalizzazione degli spostamenti per ragioni di lavoro tra comuni e l'apertura di tutte le attività di cui ha gli allegati 23 e 24 dello stesso. E almeno la previsione di lezioni in presenza degli studenti del primo ciclo di istruzioni le cui famiglie documentino l'impossibilità di poter ricorrere alla DAD per inesistenza di connessione a internet o per impossibilità di garantire assistenza ai propri figli minori o per altre gravi ragioni. E infine un piano economico di ristoro per le categorie di cui si intende riaffermare eventualmente la chiusura.